Sindaco Massimo Cialente, la città si prepara a questa grande adunata nazionale, la città è già piena di penne nere. Come si è preparata in questi mesi e in questi giorni immediatamente precedenti all'adunata la città dell'Aquila per offrire il meglio a questi nostri amici? Il lavoro è stato condotto dal Comune dell'Aquila con tutte le altre istruzioni, con le società ma soprattutto con il COA che è il Comitato Organizzazione Adunata, che è una macchina collaudatissima dell'Associazione Nazionale Alpini che è quella che ci ha preso un po' per mano. Io ho questa visione che ormai la adunata degli alpini è un grande evento nazionale che viene poi calato in una realtà di volta in volta e che chiaramente la realtà nella quale viene calata deve poi fare il grande sforzo di organizzarsi. Io credo sia stata un'organizzazione perfetta, spero che il tempo, nonostante previsioni non migliori sull'Italia, ci permetta di passare una giornata splendida. Veramente l'organizzazione è dettagliatissima nei minimi aspetti. Quindi, ripeto, è un anno di lavoro.